Dal 2 al 12 giugno Buon compleanno in tutti i public store Pazzola per pulizia barbecue 3,90 euro Come entri il ventilatore in omaggio a tutti Occhiali da sole 3,90 euro Occhiali graduati 1,90 Orologi bronzalur 9,90 Tegame più coperchio giugiaro 14,90 Casco da bici 6,90 Buon compleanno a noi Ma il regalo lo passiamo a voi Buon compleanno a noi